La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, in questo contesto, in questo contesto, vieni, vieni città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piena di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piena di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piena di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, come è allegra la città. Tra le strade e di negozi e di vetrine, piena di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con i reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più! Grazie.